Dopo anni di difficile trattativa, amministrazione, sindacati e RSU hanno firmato il contratto integrativo collettivo per i dipendenti comunali di Lecco, un accordo atteso dal 2013. Un risultato positivo, commenta l'assessore al personale Corrado Valsecchi, che permetterà di destinare maggiori risorse alla valorizzazione dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli impegnati nella realizzazione degli obiettivi ritenuti significativi e strategici per la città e per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Tra gli istituti finanziati dall'accordo, le indennità per particolari responsabilità ed ex qualifica ottava, i compensi per l'esercizio di specifiche funzioni, l'indennità di rischio, di disagio, di turno e di maneggio a denaro, l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, i messi in notificatori, la produttività e ancora i salari accessori per i dipendenti a tempo determinato e del personale a tempo parziale per il personale decentrato o distaccato. Confermando l'apprezzamento per l'importante risultato raggiunto, aggiunge il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, ritengo che le risorse professionali valorizzate dall'accordo siglato, insieme alla collaborazione con realtà appartenenti ad altri enti pubblici e privati, contribuiranno a far raggiungere gli obiettivi evidenziati anche nel piano esecutivo di gestione e che declineremo nelle scelte di bilancio. Inoltre, con la prossima conclusione dell'iter di selezione dei due nuovi dirigenti di area tecnica e con la rinnovata procedura di selezione per il dirigente dell'area cultura, conclude Brivio, si andrà avanti nel raggiungimento degli obiettivi strategici di questa amministrazione.